Musica Una partita che fin dall'inizio vi ha visto svantaggiate ma arrivavate cariche, insomma un momento positivo, cosa è successo oggi? Ma cosa sia successo non lo so, di sicuro siamo state, una squadra siamo state un po' poco legate quindi c'era molta distanza fra la difesa e l'attacco, poco concentrate e soprattutto molto nervosismo sia in campo sia in panchina, diciamo che questo è quello che ci ha penalizzato di più. Insomma ritorniamo al campionato, venivate da una serie di risultati incredibili, avevate anche sconfitto le squadre alte della classifica all'ultima Lausonia, cosa è cambiato nell'alveare dopo un giro d'andata faticoso? Eravate venute fuori e anche oggi un'altra caduta? Ma abbiamo avuto un giro d'andata con poca convinzione e poi il giro di ritorno ci siamo nettamente riprese e poi una sconfitta ci sta, insomma non possiamo sempre giocare a livelli molto buoni, ogni tanto cadiamo anche noi ci vogliamo ma siamo sicure di riprenderci per le prossime partite. Ultima domanda, dove finirete il campionato? Al mare? No, non lo so, finiremo, noi siamo seste, almeno dopo questa partita eravamo seste ma abbiamo quella alla quinta, mi sembra che abbia 5 punti più di noi quindi penso che se riusciamo a recuperare una posizione va bene. Grazie mille, in bocca al lupo.